Faccio i miei più sentiti auguri di Buon Natale, siamo qui di fronte a questa tavola imbandita e con tutto e di più, tutte le recornie, dolci, pasta, carne, insomma di tutto. Buon Natale amici, buon Natale, serene feste, che tutta la pace arrivi nelle vostre famiglie. Faccio soprattutto gli auguri a tutti gli amici che mi conoscono e anche a chi non mi conosce, a Ugo, compagni suo, a tutti insomma, tanti auguri di Buon Natale.